In questa location diversa dal solito che abbiamo deciso che ormai ci conosciamo così bene visto che intervisto sempre loro Raga, niente, ormai lo sapete cosa vi chiedo, cosa vi chiedo, com'è andata, vi siete divertiti, vi aspettate questo risultato È la quinta volta di fila che arriviamo in finale, ancora troviamo una squadra in grado di batterci Dobbiamo interrompere la striscia negativa di sconfitte al Crespi perché due finali abbiamo giocato lì e entrambe perse quindi magari quest'anno Quindi se siete a cinque finali, due perse, due vinte, eh vabbè allora raga qui siamo messi bene Quindi diciamo che siamo in pari con le vinte e con le perse, dobbiamo confermare che siete dei vincenti Ma domanda, questa squadra è vincente, è sempre questo o è cambiata negli anni? Eh non è, è cambiata negli anni, abbiamo delle new entry, abbiamo due new entry fortissimi Il martello di Milano e il martello di Busto Arsizio, comune, non so qua Non vengono detti retroscena, chi è qui il vero campione della squadra, siamo onesti? No, sono io il campione della squadra Beh io vorrei far notare che senza di me loro non potrebbero giocare quindi io sono la persona più fondamentale della squadra Bravo, un applauso alla Marti Questo è per pochi che ci seguono dal primo anno, Isabella mi manchi Va bene raga, qui abbiamo capito che ci vediamo a febbraio alla finale, urbano Grazie a tutti